Ci siamo quasi. Sì, ci siamo quasi. Che c'è? Hai paura dell'altezza? No. Chi te l'ha detto? A volte guardo oltre la recensione e credo di riuscire a vedere qualcosa. Tu no. No, io no. Perché non guardi bene? Io guardo bene, ma non vediamo la stessa cosa. Quando ce l'avrai davanti agli occhi la vedrai. Allora, è deciso? Sì. Allegiant, da mercoledì 9 marzo al cinema. Sapevate che Chris Pine, classe 80, aveva solo 28 anni quando ha fatto il primo reboot di Star Trek nel 2009 ed era il primo protagonista in assoluto ad essere nato dopo l'inizio della serie classica di Star Trek? Beh, adesso Chris è una vera star e i suoi fan vengono chiamati Pine Nuts. E voi siete un... una Pine Nuts? Cliccate qui accanto per rimanere con me. Ci vediamo nel prossimo video. Grazie. 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 Grazie.